ancora una volta buongiorno a tutti ben ritrovati vi chiederete perché questo video ovviamente per compiacere il mio sfrenato e conclamato narcisismo ormai sono diventato dipendente da questo mezzo di comunicazione per cui non resisto senza propinarvi il mio volto e la mia voce per per un po di tempo una volta alla settimana più o meno a parte le battute sono qui per intrattenervi su alcune facche perché è stato aggiornato il sito del governo e forse è bene così o rinfrescarci giusto la memoria perché poi sono cose che ormai sapete già tutti nel qual caso insomma evitate di ascoltarmi e arrivederci alla prossima volta se invece siete interessati abbiate ancora una volta la bontà e la pazienza di ascoltarmi allora partiamo con la solita zona gialla io in realtà vi sto parlando da una zona arancione l'emilia romagna è arancione ma partiamo appunto col metodo dalla zona gialla le fac del ministro del governo ci dicono lo sapevamo ma insomma che dal 16 gennaio al 15 febbraio zona gialla consentiti gli spostamenti soliti tra le 5 le 22 all'interno della regione della provincia autonoma ovviamente con il rispetto delle specifiche restrizioni riguardanti gli spostamenti verso le abitazioni private e questo è già una complicazione perché in realtà lo spostamento all'interno della regione è libero ma se voglio andare a visitare amici e parenti posso farlo solo una volta al giorno quindi spostamenti verso un'abitazione privata solo una volta al giorno sempre ovviamente tra le 25 e 22 massimo due persone oltre a quelle che vivete nell'abitazione più minori di 14 anni al seguito oppure disabili o non autosufficienti quindi tenete conto di questa contraddizione o comunque limitazione che appunto vincola questo tipo di spostamenti dal 16 di febbraio invece al 5 marzo gli spostamenti torneranno ad essere consentiti in entrata e uscita per tutte le regioni ubicate in zona gialla ovviamente salvo ulteriori ordinanze limitative speriamo speriamo che non ce ne siano come sempre spostamenti verso altre regioni o altre province autonome sono consentite per i motivi consueti esigenze lavorative situazioni di necessità motivi di salute motivo per cui sono state emanate queste facche questo in particolare che vediamo adesso ovvero che è sempre consentito rientro la propria residenza domicilio o abitazione è sempre stato così ovviamente ma dal 16 gennaio è caduta l'esclusione delle seconde case ubicate fuori regione quindi prima era esplicitato il fatto che era vietato il trasferimento verso le seconde case essendo caduto adesso è possibile il rientro anche presso le seconde case anche se ubicate fuori regione vabbè adesso vedremo vedremo meglio le facche che cosa ci ricordano ancora che che cos'è la residenza ovvero quel luogo giuridicamente definito in cui la persona ha la dimora abituale quindi quello in cui si abita normalmente e che ha registrato in pubblici registri all'anagrafe e quindi come dire è di facile consultazione per gli addetti al controllo ok il domicilio che ha sempre una definizione giuridica è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi e quindi non è detto che coincida con la residenza possono essere due luoghi diversi il problema si pone con l'abitazione perché ovviamente non esiste una definizione tecnico giuridica specifica di abitazione e allora le facci dicono che ai fini della normativa sul covid l'abitazione deve essere intesa come il luogo in cui si abita di fatto ovviamente con una certa continuità e stabilità quindi per periodi anche se limitati comunque continuativi durante l'anno oppure con una periodicità abituale e con una certa frequenza e fa l'esempio di alcuni giorni alla settimana per motivi di lavoro di studio per altre esigenze particolari ok quindi concetto molto più esteso e soprattutto punto di difficile verifica ok perché perché non c'è una registrazione in nessun modo della abitazione ok l'esempio che fa la fac è quello di persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner ma che si ritrovano con il coniuge o partner con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione in questo caso ovviamente entrambi possono spostarsi per raggiungere quell'abitazione stessa la fac evidenzia che appunto il decreto legge 2 del 2021 e il conseguente dpcm del 14 gennaio non hanno reiterato l'esclusione delle cosiddette seconde case cioè le abitazioni non principali quelle ubicate fuori regione non le hanno ricomprese non hanno reiterato scusate il divieto di arrecarsi presso queste per cui anche in queste adesso è sempre consentito il rientro evidenzio ancora questa cosa è possibile sempre il rientro in un'abitazione non principale cioè la seconda casa anche se fuori regione in quanto la questa esclusione esplicita che era presenta nei precedenti decreti non è stata ripetuta nel decreto legge 2 2021 e nel dpcm del 14 di gennaio altri altre fac così di interesse ce n'è una che è relativa ne avevo già parlato ma mi fa piacere che anche il governo in questo caso si sia adeguato alla mia interpretazione che è questa se si va a casa di parenti o amici rispettando ovviamente il limite 5 22 si deve comunque anche per il ritorno rispettare il coprifuoco o visto che è data la possibilità sempre di rientrare presso abitazione si può derogare ecco il governo precisa che no non è possibile cioè si possono andare a trovare parenti o amici ma bisogna comunque tornare a casa entro le 22 dopo le 22 è possibile uno spostamento solo per motivi di lavoro necessità o salute anche perché sennò tutti uscirebbero di casa alle 9 di sera fanno trovare gli amici e poi potendo tornare a casa questi tornano alle 11 e mezzanotte alle 2 le 3 finirebbe il senso della norma altra fact coniugio partner che abitano in città diverse per esigenze di lavoro o per altri motivi insomma è possibile per uno dei due ricongiungersi quindi raggiungere l'altro è possibile solo se l'uomo scelto per il congiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza il domicilio o l'abitazione come abbiamo detto prima chiarimento adesso sulla cosiddetta seconda casa ok allora dal 16 gennaio è consentito fare rientro a residenza domicilio abitazione senza la limitazione delle seconde case come era prima quindi è possibile raggiungere le seconde case anche in un'altra regione o anche da zone che abbiano colori diversi ma è possibile solo per quelli che possono dimostrare dimostrare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge numero 2 del 14 gennaio che cosa vuol dire? precisano le fact che per ovvie esigenze anti elusive cioè per evitare i soliti furbetti come si suol dire ci vuole un titolo che abbia una data certa per esempio un atto stipulato dal notaio registrazione di una scrittura privata comunque un atto con data certa che sia anteriore a 14 gennaio cioè se io ho stipulato un contratto di locazione quindi registrato o con scrittura privata autenticata o registrata in una data anteriore a 14 gennaio e ovviamente non per tre giorni ma di una medio lunga durata è chiaro che quella mi diventa seconda casa quindi abitazione e quindi io posso farci ritorno naturalmente dice il governo vabbè qua di naturalmente non c'è niente ma vabbè naturalmente però precisa giustamente la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenente al nucleo familiare convivente con l'avente titolo e vi si può recare unicamente tale nucleo quindi io stipulo un contratto per affittare una seconda casa in quella posso andare io con il mio nucleo familiare e solo il mio nucleo familiare deve essere presente in quella seconda casa ovviamente ci dice il governo la sussistenza di questi requisiti può essere comprovata con la copia del titolo di godimento avente data certa per forza o anche con autocertificazione e ricorda che il falso in autocertificazione costituisce reato altra fac genitori anziani ma in buona salute in una regione o provincia autonoma diversa dalla mia è possibile andarli a trovare? no fino al 15 febbraio perché sono sono vietati gli spostamenti dopo il 15 febbraio salve ulteriori restrizioni sarà sarà possibile ma vedremo domanda ancora è consentito spostarsi in un'altra regione per turismo? no fino al 15 febbraio ok questo divieto comprende anche gli spostamenti verso alloggi presi in locazione breve cioè di durata fino a 30 giorni sono invece consentiti dopo tale data sempre ovviamente salvo future restrizioni la domanda altra domanda interessante è come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per motivi di necessità ecco la valutazione dei motivi di necessità viene rimandata all'autorità competente che è la prefettura però di fatto la FAC ci dice che se uno riceve un verbale di accertamento di violazione e ritiene di non condividerlo ovviamente può presentare il famoso ricorso gli iscritti difensivi al prefetto quindi sembra dire suggerisce comunque l'idea che il prefetto non fa consulenze preventive ma si limita a giudicare successivamente la legittimità dei motivi avanzati da chi sia stato sanzionato altro quesito che viene posto è possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio e al termine della giornata di lavoro il governo ci dice è possibile ma fortemente sconsigliato perché ovviamente gli anziani sono la categoria più a rischio però di fatto questo è passiamo alla zona arancione parliamo sempre di spostamenti ovviamente dal 16 gennaio al 5 marzo in zona arancione gli spostamenti sono all'interno del proprio comune sempre col vincolo 5-22 sempre rispettando le specifiche restrizioni sugli spostamenti per cui esigenze lavorative situazioni di necessità salute sempre consentito il rientro a propria residenza domicilio o abitazione e sappiamo ancora una volta che la visita parenti ed amici una sola volta al giorno all'interno dello stesso comune tra le 5 e le 22 ok anche in questo caso dal 16 gennaio è venuta meno l'esclusione delle cosiddette seconde case sia dentro che fuori la regione e quindi vale quello quello che ci siamo detti prima ok a chi vive in un comune che ha meno di 5.000 abitanti è comunque consentito anche questo lo sappiamo spostamento entro 30 km dal confine del proprio comune anche quindi in un'altra regione provincia autonoma anche per visita ad amici e parenti quindi viene evidenziata questa cosa che prima non era mai stata detta quindi è possibile entro 30 km andare a trovare anche amici e parenti ovviamente una volta sola al giorno massimo due persone la solita storia con il divieto però di spostarsi verso i capologhi di provincia rimane valida anche in questo caso tutta la questione delle seconde case come abbiamo detto prima altra fac che rimanisce quello che non mai sappiamo ma ce lo ricordiamo spesa in comuni diversi da quelli in cui si abita allora in un'area arancione sono vietati gli spostamenti diversi da comuni in quello in cui si abita salvo per specifica esigenza necessità fare la spesa è considerata una causa giustificativa degli spostamenti ok se poi il proprio comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un comune contigua il proprio presenti disponibilità anche in termini di maggiore convenienza economica di punti vendita necessari alle proprie esigenze lo spostamento è consentito ovviamente con autocertificazione ok la domanda poi ulteriore è si può uscire di casa per acquistare beni diversi da quegli alimentari ovvio che sì perché non ci sono limitazioni spostamenti per l'attività sportiva ok allora spostamenti sempre tra le 5 quelle 22 per fare attività sportiva solo quando non sia disponibile nel proprio comune e qui si apre un po' una voragine nel senso che tutti quelli che vogliono andare a ciaspolare e si trovano come me a Parma o comunque in pianura pare che siano autorizzati ad andare ovviamente fino in collina dove c'è la neve perché ovviamente ciaspolare richiede uno spostamento significativo è attività sportiva e non è disponibile nel proprio comune quindi direi che ci sta anche quello è anche possibile lo svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento in un altro comune per esempio la corsa o le biciclette anche in questo caso è possibile ma ovviamente solo nel caso in cui punto di partenza e punto di ritorno coincidano e siano nello stesso comune di partenza cioè è chiaro che io comincio a correre o a pedalare da casa mia esco durante questa attività dal comune ma poi ci rientro per tornare a casa mia rimane il fatto per i comuni piccoli sotto i 5.000 abitanti insomma in quel caso lì il problema si pone ancora meno altra cosa che ormai sappiamo ma ce lo ricordiamo anche questo posso usare l'automobile con persone non conviventi sì ci dice il governo purché ovviamente rispetto delle misure per cauzione quindi solo guidatori nella parte anteriore della vettura due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori con obbligo di tutti di indossare le mascherine di protezione non c'è l'obbligo della mascherina solo nel caso in cui la vettura sia dotata di un separatore fisico in plexiglass e quindi in quel caso lì solo il conducente e solo un passeggero nella fila posteriore altra questione che mi preme evidenziare perché ho visto che sono stati fatti anche dei verbali in questo caso e diventeranno tutti carta straccia la domanda è devo effettuare uno spostamento giustificato da motivi previsti dal decreto ma non avendo la possibilità di disporre o di condurre un mezzo privato posso farmi accompagnare da qualcun altro? sì ci dice il governo ovviamente nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato o non si abbia la patente vabbè è questo chiaro o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento è consentito farsi accompagnare sia da un familiare preferibilmente convivente vabbè o comunque da una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione ovviamente se non sono conviventi hanno l'obbligo di indossare la mascherina protettiva qual è il problema e precisa ancora la facche che in questo caso anche lo spostamento dell'accompagnatore è giustificato ora qual è il problema che si è posto molto concretamente signora che lavora al supermercato e che finisce il turno alle 10 il convivente assieme al convivente sono in possesso di una macchina sola ovviamente hanno entrambi la patente ma una sola macchina se il convivente è servita durante il pomeriggio alla donna era possibile andare a lavorare magari con i mezzi pubblici o essere accompagnata in orario in cui non c'erano i vincoli poi alla sera cosa fa? rimane lì? è chiaro che il convivente è abilitato autorizzato ad andare a recuperarla ok? quindi attenzione alla verbalizzazione in questi casi cioè bisogna fare un minimo di accertamento in più ok? quindi il mio consiglio è procediamo con autocertificazione prima di andare a verbalizzare immediatamente perché poi si riesce di fare delle brutte figure lo dico perché so che è successo insomma parlo con cognizione di causa anche se non sembra passiamo alla zona rossa rimangono ovviamente le limitazioni solite che ormai conosciamo le questioni ulteriori le FAQ ci dicono che spostamenti verso comuni diversi da quelli in cui si abita sono vietati salvo che per specifiche esigenze o necessità rimane confermato quello che abbiamo detto per l'arancione per gli spostamenti per l'acquisti in punti vendita dove ci sia anche una maggiore convenienza economica ok ovviamente servirà in questo caso sempre l'autocertificazione e si possono acquistare beni diversi da quelli alimentari sicuramente ma solo quelli che rientrano nelle categorie previste dall'allegato 23 del dpcm del 14 gennaio ora parliamo di attività motoria rimane consentita all'aperto solo individualmente in prossimità della propria abitazione sempre ovviamente dispositivi di protezione e sempre a distanza di un metro come per l'area arancione per le zone arancioni l'attività sportiva è possibile anche fuori comune ma solo nel caso di attività che richiedono uno spostamento significativo quello che vi avevo detto prima corsa o bicicletta altrimenti l'attività sportiva deve per quanto è possibile avvenire all'interno del proprio territorio comunale poi è chiaro che uno che va in bicicletta c'è fatica a stare dentro il territorio per questo quindi quindi è possibile ok domande due domande specifiche sullo sport il personal training one to one possono proseguire allora la risposta del ministero sono possono continuare solo quelle attività che possono fungere da presidio medico sanitario obbligatorio ovviamente quindi fisioterapia e o riabilitazione o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e anche questo lo sappiamo oppure i personal training svolti all'aperto mantenendo le distanze di sicurezza quindi personal training all'aperto con le distanze di sicurezza altrimenti no altra questione che interessa varie persone che conosco è possibile derogare al coprifuoco del caso in cui le sedute di allenamento o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre le ore 22 sì è possibile circolare tra le 22 e le 5 per motivi ovviamente lavorativi necessità e salute tra questi viene ricompresa la partecipazione a eventi o competizioni di rilevanza nazionale o agli allenamenti per atleti che vi partecipano quindi anche in questo caso attenzione chiediamo l'autocertificazione chiediamo magari qualche documento che sicuramente le società sportive rilasciano i propri tesserati perché succede con una certa frequenza soprattutto nel caso dei minori che ovviamente devono essere non devono tornare a casa con mezzi propri devono essere recuperati quindi non è che non devono tornare a casa con mezzi propri però pensate a un atleta di 14-15 anni e d'inverno ci sta che il genitore è a denunciare per abbandonare di minore no se non ci va ci sta che il genitore gli vada a recuperare il proprio minore bene ho concluso spero di non avervi annoiato troppo e alla prossima e alla prossima e alla prossima